La scuola è in crisi, come facciamo? Come facciamo? Aiuto! Organizzeremo un raccolto di beneficenza per la scuola! Sono meglio le femmine! No, sono meglio i maschi! Faremo un cartellone sul tema dell'uguaglianza insieme a un contenitore per i pensieri dei ragazzi. Faremo un video dove parleremo dei principi fondamentali della Costituzione. Organizzeremo degli incontri con il sindaco e con gli assessori. Grazie a tutti!